ciao ciao grazie di essere qui con me oggi prima di cominciare il video volevo dirvi giusto due cose la prima è che si è un roleplay ma si vedrà il microfono perché sono in vacanza in montagna ma qui c'è una vasca e quindi ho detto vabbè facciamo questo video e però l'attrezzatura è quella che già mi ero portata l'attrezzatura però la postazione è quella che è quindi si vede il microfono perché preferisco avere un audio buono ma il microfono in vista piuttosto che un audio molto mediocre il microfono che non si vede seconda cosa per chi ancora non lo sapesse è uscito il mio calendario dell'avvento smr sul mio podcast ve lo lascio qui si chiama rilassati con chi era smr lo trovate su tutte le piattaforme podcast quindi come spotify apple music amazon music quindi non su youtube non su instagram non su instagram ma su queste piattaforme podcast e consiste in ogni giorno un audio inedito che vado agli 8 e 12 13 minuti dal primo al 24 dicembre quindi ogni giorno potete gustarvi un audio smr nuovo ed è come se scartaste appunto un calendario dell'avvento e la testa del natale e ci tengo tantissimo e voglio sottolinearmi che questi audio non andranno mai da nessun'altra parte quindi rimarranno sul podcast anche dopo l'avvento quindi vi lascio il link qui sotto e mi farà piacere a un punto se andate anche a sentirli perché questo è un lavoro che faccio assolutamente per voi e per darvi dei contenuti inediti ogni giorno fino a Natale spero vi piaccia e in realtà dovreste già saperlo però non lo sapevate eccovi qua inoltre sto facendo anche dei piccoli shorts ogni giorno con dei piccoli suoni anche qui su youtube quindi se andate sul mio canale sugli shorts trovate un piccolo video smr al giorno quindi vi invitano a dare anche quelli se vi rilassano ok ho detto tutto quello che dovevo dire e ora passiamo al video è freddo? un po' anche io ho ancora un po' freddo e ancora un po' secondo me le guance rosse dalla passeggiata di oggi ascolta visto che è l'ultima sera e ho pensato di prepararti un bagno visto che sei una mia amica e che mi hai fatto davvero un piacere venire in montagna con me ti volevo, ti ho preso un po' di cosine e ti volevo preparare appunto un bagno caldo per riscaldarti dopo questa giornata in montagna ok? va bene e diciamo il mio modo di ringraziarli per avermi offerto la cena dell'altro giorno allora qui con me ho diverse cose ti ho comprato anche oggi senza farti vedere che potrebbero rendere il tuo bagno molto più rilassante oltre che l'acqua calda in sé allora 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 ti faccio vedere intanto le cosine appunto per il bagno in sé la mettere nella vasca o ti faccio scegliere oppure puoi sceglierli entrambi in realtà qui come vedi in questa questa scottetta di legno ho dei sali da bagno questi sono alla lavanda molto rilassanti ho dei sali da bagno in questa scottetta di legno e e questi appunto sono fatti per essere messi nella vasca al bagno per dargli un po' di profumo oppure ti ho anche preso questa questa è una sfera da bagno diciamo così, una bad pop allora ed è non ti chiedo ora al profumo di milograno e arancia ok, te lo apro a tiro fuori te lo faccio sentire hanno un sapore ok ha un profumo buonissimo secondo me ti piace? si, ne sono contenta allora magari usiamo questa nella vasca e se vuoi mettiamo anche un pochino di sali se farrai ti svelo un segreto non penso di aver mai usato una cosa leggere le poche volte che appunto faccio il bagno perché non la vasca è casa mia quindi non me le porterei in albergo ecco poi, poi, poi ho pensato che mentre si fa ci si rilassa appunto nella vasca si può anche scannocchiere qualcosa no? quindi ti faccio scegliere ma in realtà se vuoi li puoi vedere entrambi ovviamente figurati abbiamo un biscotto al cioccolato bianco e noci di macadam questo deve essere incredibile non si sente l'odore ma sembra pazzesco oppure so che li adori so che li adori ti ho preso al supermercato un barretto mettiamola così di rittera al biscotto li avevo presi in realtà perché non c'è montagna senza ritter secondo me effettivamente e e quelli al biscotto sono sempre buonissimi so che piacciono sia a me chi ha detto se ci veniva a fame ce li ho avuti sempre in tasca nella Jack quindi questi due e dimmi quale preferisci se li vuoi entrambi ok 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 va bene allora ti metto il cioccolato lì di bianco è così se vorrai te lo potrai gustare poi 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 ho quasi finito adesso ti faccio godire un po' il bagno non ti preoccupare allora ho comprato anche per l'occasione delle candele perché secondo me fare il bagno e sentire anche l'aroma della candela è stupendo sono appunto nella Yankee Candles con tutto questo pack natalizio infatti l'edizione è natalizio guarda che belli tutti questi disegni e abbiamo tre candele pensate per il periodo festivo sono queste tre una due e tre una piccola ma in una jar e due diciamo così sfuse te le faccio sentire tutte così la scegli se vorrai una candela ovviamente la prima ok a me non piace ma deve piacere a te sa si sa di gingerbread house quindi a tutte quelle spezie appunto tipiche del gingerbread quelle spezie natalizie tipo secondo me ci sono i chiodi di carofano ce l'hanno i gestellato hanno un po' eh si capisco si secondo me è un po' chiodi di carofano un po' di cannella nel mio breve sentiamo il secondo questo è buono si chiama candy cane forest quindi forest di candy cane che sono queste caramelle famose qui natalizie sa effettivamente di zucchero caramellato prova ok questa ti piace sentiamo l'ultima e poi farai la tua cedizia appunto questa forse è anche un po' più carina a vedere di quel suono questa si chiama glisterine christmas che penso sia tipo natale brillante natale con tante luci non so bene come tradurlo è questo qui te lo faccio sentire secondo me questa è buonissima sa di vaniglia di calore un po' di pulito soprattutto di vaniglia buona certo aspetta ti faccio sentire te le faccio sentire una dietro l'altra così capisci quale ti piace di più ti faccio sentire prima questa si fa una cosa chiedi gli occhi così non saprai quale l'una e quale l'altra te le faccio sentire così tu puoi scegli gli occhi chiusi ok annusa questa ok fatto annusa adesso quale l'apri la seconda la seconda ok ok era questa e anche non lo so è la mia preferita ma se la giocano molto bene se la giocano molto bene si ok ultimissima cosa prima di far scorrere l'acqua volevo anche farti un po' di skin care o comunque farti fare un po' di skin care mentre sei a mollo e allora quindi ho preso tre cosine poi scegliere cosa fare se fare tutto tre se fare niente se farne solo una troppo carina allora ti ho preso ti ho preso ti ho preso queste idrogel pads quindi questi comunque patch occhi glitterati troppo troppo bellini troppo 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 e la mettere appunto sotto gli occhi hanno tenuti 15-20 minuti quindi è perfetto la tua è perfetta hanno acido ianuronico estratto di magnolia e vitamina molto carini molto anche belli devo dire la seconda cosine che ti ho preso è molto particolare è di questa marca che si chiama frutia che a me piace molto devo dire io tramo anche i suoi bag stupendi infatti una marca di skin care coreana è un cuscinetto di cotone sfogliante per il controllo dei pori neri con uva verde è un cuscinetto appunto monoso appunto che devi fondamentalmente sfregarlo un pochino sul viso a parte la zona dei contornocchi è al uva verde uva giallo lo so c'è scritto green grape uva verde si sente un po' di liquidino all'interno e mi sembrava carino mi sembrava interessante se non lo sarete lo userò io comunque mi sembrava carino appunto mentre sei nella vasca stai lì e ti levi via un po' di pori te li minimizzi ultima sempre di skin care coreana anche questa va tenendo circa un quarto d'ora è sempre appunto come ho detto skin care coreana ma è una maschera viso che a me piace molto è soothing ci scritto soothing sheet mask with enecinamide panthenol and calendula calendula complex soothing quindi è assi lenitivo con enecinamide panthenolo e calendula che è appunto molto lenitivo molto delicata e secondo me è comoda anche questa ok forse la c'è nella maschera così è un po' troppo penso che poi magari si scomoda nella vasca va bene allora facciamo così io adesso ti metto i peggio occhi ok e poi così te li darai appunto durante il bagno e poi comunque ti metto lì vicino anche questo se deciderai di usarlo tanto con i peggio occhi non rischierai anche di appunto beccare la zona degli occhi per sbaglio ti li metto qui ok e questi te li applico troppo bellini glitter sicuramente inutili ma bellini sono questi qui quanto sono carini scusami quanto 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 sono carini te li applico te li metto uno qui e l'altro te la metto qui fantastico perfetto adesso io direi che la preparazione di aprire il bagno l'abbiamo fatta direi che la schiuma c'è la temperatura dell'acqua c'è la temperatura la vasca direi che è pronta la vasca direi che è pronta andiamo adesso solo a mettere la patbomb e poi di lasciare la sara assolutamente mettiamo questa guardiamo carina bui bui carino sta facendo tutto il bollicino carinissima la senti? buon bagno, buon relax